buongiorno stefano carrai dopo il tempo che non muore edito da interlinea premio pisa nel 2013 e la traversata del gobi edito da aragno premio viareggio 2017 giunge ora al terzo libro con industria e letteratura in questa collanina di recente inaugurata da questo nuovo marchio diretta da nicolò scaffai e gabriel del salto con equinozio è una raccoltina che prosegue la rammemorazione dei tempi mitici della giovinezza e la meditazione su come si sia sviluppata la vita e si sia trovata adesso a fiorire in altre direzioni rispetto a quelle che erano della gioventù per questo è il tocco particolarmente nostalgico che naturalmente però sposa anche dei temi non solo privati ma anche sociali e politici di questa di questa raccolta ve ne leggo due frammenti una ragazza di milano bruna minuta innamorata di picasso mi porto a lei a punta bianca lei sulle puane a fare il bagno nelle pozze d'acqua dolce due anni dopo era morta di overdose i suoi sedici anni mi restano nella fotografia in bianco e nero in cui ha i pantaloni a zampa d'elefante le scarpe da ginnastica una maglietta rossa un in nero il viso di ceguevara sul retro ce la dedica con tanto amore che ha vissuto quegli anni sa quanto spessore di implicazioni ci sia anche sotto in una semplice maglietta di ceguevara e qui accanto agli accordi di chitarra passano spesso memorie dell'impegno negli anni del 68 o delle contestazioni nella voglia di fare un nuovo cielo e nuova terra un mondo di nuove cose meravigliosamente la bicicletta nera fra il verde menta l'arancio e viola strisce a perdivista le chiatte in acqua rasente i mulini il brivido dei tonfi sui gradini di legno poi lo strazio del passaggio segreto per il retro casa i tedeschi in costume oltre le dune ma allora contava solo la grande fuga il trompe d'oeil dell'estate si stipavano scatti dentro il cuore schedario credendo di inventariare il futuro costruendoci invece un collage di passato inconsapevolmente grazie per vederci